Ciao Rosi, grazie a voi ragazzi piccolo problema tecnico come si dice il bello della diretta e anche prima era la stile perché non mandava l'audio qua, ecco l'altro mi chiamo Marco e vivo dentro una scatola vorrei riuscire ad esplorare il mondo alzarmi dalla maledetta seggola ancora tra fuori come per le persone e dicono che è pieno l'universo vorrei toccare il prepotente tutto ma sono un prigioniere in un castello c'è tanta gente che mi gira intorno e quanto amore in uno strano cielo vorrei abbracciarti, rio come un manco senti a vicino e sorriso questa fatica e regalare un brazie quando lo faccio vale molto di più la mia linguaccia è il segno di amicizia parlami ancora a non lasciarvi più a tutto il mondo che mi gira intorno a me vorrei riuscire per andare presto vorrei portarmi da più non posso tornare in piano e poi imparare tutto dire le cose che sanno dire tutti forse arrabbiarmi qualche volta in più scontare il cielo sopra una montagna vorrei navigare verso il mare blu mi chiamo Marco io osservo il mondo da una scatola e sfrutta a te ciò che mi circonda vorrei riuscire e aprire la porta qualcuno si griglia e non deve andare nel mondo intorno che deve capire che siamo noi e non sappiamo amare e chi di dentro non vogliamo finire e chi di dentro non vogliamo finire e ci avrete fare tanto tutto che bello mamma che ci sei di tu e riusciremo a aprire quella porta e andremo avanti e torneremo a Dio grazie per Marco grazie grazie